Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nuovo video di roblox degli scarafaggi guardate questi due sono i miei servi e io sono un rettangolo si sono uno scarafaggio rettangolo avete mai sentito parlare di uno scarafaggio rettangolo ragazzi dovete lasciare almeno 10.000 mi piace ve lo dice lo scarafaggio bella faccia guardate com'è bello perché se raggiungiamo almeno i 10.000 mi piace io mi sciopperò comprerò il vip guardate 400 robux ma siamo pazzi ok mi comprerò il vip stiamo facendo dei progressi incredibili perché siamo a livello 69 presto sbloccheremo guardate guardate qua c'è uno scorpione non vedo l'ora di diventare uno scorpione oggi che cosa facciamo vi farò vedere delle tattiche delle tecniche perché oggi in questo video cercheremo di uccidere il maggior numero possibile di insetti e faremo delle trappole vi faccio vedere io si faremo delle trappole però adesso fatemi mangiare allora adesso andiamo a conquistare i nostri nidi si perché abbiamo bisogno di un sacco d'esperienza intanto che proteggiamo il nostro nido allora io direi di prendere questo nido e direi di farci anche questa bella cassa dopo perché voglio fare un bel upgrade salve questa bandiera di qualcuno è di bella faccia adesso si sono tipo un mezzo ragno mezzo scorpione e mezzo blu si sarà roba un insetto blu ma chi ha mai visto un insetto blu ah adesso è di bella no è di bella faccia questo posto ah no non è più tuo porca miseria forza vieni a riprendertelo che ti mangio in un boccone dai ma è possibile che questo insetto sia più forte del ragno se io prima l'altra volta ero un ragno e adesso sono uh oh mio dio ah sei stato fortunato che c'è il baule porca miseria quello lì è come me una volta che distruggeremo questo baule ragazzi sarà uno scontro epico chissà chi vincerà ok adesso mi faccio questa cesta epica e poi vi faccio vedere le trappole incredibili di roblox degli insetti saranno incredibili eh ci cascheranno tutti forza 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 facciamo l'upgrade perché quello lì appena si romperà la cesta sicuramente vorrà conquistare la mia base no non conquisti un bel niente oh mio dio salgo di livello fra tre due uno si sono ancora più grande no sono come prima però sono a livello 70 sono arrivato a livello 70 non ci posso credere dai 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 dobbiamo salire di livello questo qui vediamo spero che non faccia l'evoluzione altrimenti ci distrugge vediamo rompi dai rompi senti mosca di ossa è meglio che te ne vai si vattene ok stiamo pronti alla sfida forza 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 no 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 vieni qui si preso preso bella faccia il più forte si ok vi faccio vedere le super trappole bisogna cercare un fungo ragazzi se anche voi giocate a questo gioco è meglio che fate come me vi faccio vedere allora adesso devo mangiare un pochettino ecco cerchiamo dei funghi come questo vedete ci mettiamo allora prendiamo oh ci mettiamo qua sopra dovete saltare ecco sì ecco sono fatta avete visto qua sopra appena passerà qualcuno ecco lo divoreremo e questa è la super trappola di bella faccia forza scendete scendete vi sto aspettando un ragno chissà se riusciamo ad ucciderlo ma visto ma visto no porca miseria ci ha visto la trappola non ha funzionato vabbè intanto facciamoci questa cesta ragazzi rimettiamoci qua su forza veloce dobbiamo rimetterci qua ok perfetto oh uno scarafaggio agguato no è uscito che fifone che fifone è uscito non si credo avete visto non si credo è uscito che codardo che codardo ho avuto paura di bella faccia ok io resto qua che cosa fa quel ragno ma non fa niente e li fermo ok adesso aspetto la mia preda mmm c'è qualcuno da mangiare mamma mia questa è una super trappola chi è oh c'è un ragno chi è che mi vedrà qua chissà se m'ha visto ok tre due uno ma sei fortunato che c'è questo baule adesso lo rompo perché mi ha rotto le scatole rompiamo questo baule e dopo vi faccio vedere io maledetti questo maledetto baule se non era per questo li mangiavo a tutte e due è incredibile ecco perfetto stanno anche conquistando la mia bandiera si potrà sii oh mio dio che brutto cosa sono diventato oh mio dio uno scarafaggio robot sono uno scarafaggio robot ma che cavolo sono diventato forza eh adesso vi faccio vedere io maledetti si si sono uno scarafaggio robot proprio così tu ragnazzo che ti sei nascosto da prima vieni qui fatti mangiare fatti mangiare che bella faccia fame ok rimettiamoci nella trappola rimettiamoci nella trappola qua hop 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 saltiamo ok qua non mi vedono un insetto un insetto un insetto stiamo pronti no ma visto forse è un fan questo qui ciao ok puoi venire solo perché sei un fan si va bene vai via devo aspettare un'altra preda non mi fare vedere vattene se no mi vedono allora vado a prendermi le mie basi e mi nascondo dobbiamo riuscire a nascondersi da questi insetti chi osa conquistare il mio nido maledetti eh chi o ok ok va bene è tutto tuo è tutto tuo scorpione è tutto tuo me ne vado me ne vado porca miseria ma perché ci devono essere gli scorpioni sempre qua porca miseria io non posso competere con questi maledetti ucci ucci sento odore di ragni ucci salve gnam gnam si andatevene questa ormai è zona di bella faccia vieni vieni qui ragnetto forza ah te ne vai ormai questa è zona mia devo diventare io il ragno più grande del server oh chi è questo qui cosa pensi di fare salve salve si ormai questa è zona mia salve no te ne devi andare mi dispiace non mi fido di nessuno perché potreste rubarmi la base si bandierina ecco qua perfetto ciao si ciao ragniuncolo no mi dispiace ti devo mangiare gnam buonissimo buono oh ce n'è un altro salve dove pensi di andare no non si va qui non si può non si può aiò vieni qui fatti mangiare fatti mangiare piccolo ragno vieni qui gnam buonissimo anche tu dove pensi di andare allora mi devo nascondere mi devo nascondere devo fare un agguato devo fare un agguato mettiamoci qua no da qui non riesco a vedere quelli che potrebbero conquistarmi la base è entrato qualcuno è entrato quel ragno maledetto dove pensi di andare t'ho visto eh eh mi vuoi conquistare la base no invece ti mangio maledetto ma guardate non posso nemmeno fare i miei agguati le mie trappole perché oh salve no no vieni qui adesso tu volevi conquistare la mia base adesso vieni qui vieni qui piccolino fatti mangiare è inutile che saltelli via ti prendo gnam 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 buonissimo come sei succolento vieni qui fatti mangiare maledetto buono molto buono molto buono allora mettiamoci in posizione bisogna fare gli agguati a questi ragazzi a questi maledetti gnam ok mettiamoci qua via ok mi sono nascosto perfetto no non puoi fare la mia stessa tattica maledetto no mi sono bloccato porca miseria te ne pentirai maledetto te ne pentirai ti faccio vedere io vieni qui vieni qui fatti prendere fatti mangiare dov'è dov'è andato l'ho visto è qui da qualche parte oh c'è un ragnaccio nascondiamoci c'è un ragnaccio gigante c'è un ragnaccio gigante dai dai sono troppo gigante porca miseria no mettiamoci qua ok ok facciamo l'aguato appena qualcuno verrà qua sotto lo divorerò con le mie chele cioè non è che ho le chele ho il delle zanne sì sì bravi rompete quella cesta eh mi hai visto eh la trappola ha funzionato distrutto 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 mettiamoci qua rimettiamoci qua porca miseria ci vedono dai mettiti qua ok no mettiti qua ok mi devo nascondere mi devo nascondere dai porca miseria sono troppo grande sono troppo gigante non riesco ad utilizzare la trappola dai mettiti qua mettiti qua ok ok ci siamo appena si romperà uccideremo quegli insettini sì e bella fazza sarà l'insetto più grande del mondo ciao sì salve sono io quello della trappola eh mi dispiace non avercela con me ok 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 venite qua giù vieni qua giù cosa pensi di fare gnom 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 ehi non scappare maledetto t'ho preso non pensavi ci fosse un insetto così gigante ad aspettarti ucciso e anche tu buono questo calabrone buono questo insettino veramente buono benissimo andiamo a conquistare altre basi ehi dove pensa ad andare quello eh vuoi andare dentro la base vuoi rubarmi le uova è meglio per te che non vai qua dentro hai capito è zona è zona mia gnom 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 ah 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 ehi fermo fermati no ti devi fermare non puoi andare è zona mia è zona mia ho detto che oh porca miseria beccati beccati questo ah fatto maledetto devo recuperare vita cavolo devo recuperare vita andiamocene ehi moscerino stai fermo so che volete conquistare tutti il mio nido ah le super trappole hanno funzionato mi raccomando utilizzate queste super trappole anche voi se volete mangiare tutti gli insettini adesso vado a conquistare altre basi perché voglio diventare un insetto ancora più forte ehi lasciami con la barana ehi era mia era mia con la banana maledetto è buono questo calabrone molto saporito la mia base lo sapevo che non dovevo lasciarla questi maledetti non vedono l'ora di conquistarla vogliono diventare più forti di me vogliono diventare forza sto arrivando appena ti metto le mie grinfie ti faccio vedere io maledetto maledetto insettino sto arrivando come osi tu come chi ha usato chi ha usato vieni qui eh non ti devi permettere ecco qua ok vediamo il prossimo eh mi sa che sono ancora per fine al 73 sono questo scarafaggio poi al 74 diventa un altro tipo di scarafaggio dobbiamo riuscire a diventare sempre più forti mamma mia guardate a breve diventeremo un ragno enorme non vedo l'ora ragazzi non vedo l'ora dove pensi di andare dove pensi di andare eh ti ho detto che qui non si può conquistare zona mia ok la lascio un attimo lì devo riuscire ad avere due basi contemporaneamente solo così riuscirò a crescere tantissimo devo fare il giro delle basi devo fare il giro delle basi forza 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 spero che non ci sia più quello scorpione non dovrebbe essersi eh veloce 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 non devo farmi conquistare le basi ok le trappole hanno funzionato ehi insettini qui comanda bella faccia fuori dai piedi fuori dai piedi ho detto fuori ci penso io iii si ho conquistato la base che bello la base degli scarafaggi ok adesso ho due bandiere devo riuscire a tenerle tutte e due eh mamma mia sarà difficile mi sa comunque che nella mappa ci sono tre bandiere disponibili e io ne ho due sono molto bravo si sono molto bravo oh upgrade guardate mamma mia sono viola ok se riesco a tenere tutte le bandiere ricevo un sacco di esperienza eh però sarà faticoso eh sarà molto faticoso perché quei maledetti insetti oh eh un ragnaccio un ragnaccio sta andando giù l'ho visto l'ho visto mi devo nascondere sta andando via strano pensavo che volesse prendermi la base mi raccomando devi stare la stanno prendendo di là porca miseria no anche l'altra anche l'altra tutte e due porca miseria tutte e due le bandiere stanno conquistando maledetti maledetti siete dei maledetti sto arrivando come osate no non era questa cavolo non era questa ti ho visto te quassù che cosa vuoi fare eh porca miseria mi hanno conquistato la bandiera io lo sapevo io lo sapevo cavolo devo tornare devo tornare devo tornare a prenderla solo così riuscirò a diventare un super un super ragno venite qui maledetti siete voi che mi conquistate tutti le mie case chi osa conquistare la bandiera di bella faccia tu piccolo scarafaggio mi dispiace mi dispiace ragazzi ero un fan però lo sapete cioè guardate io sono ultra cattivo ho bisogno di mangiare gli altri scarafaggi non siate arrabbiati con me dovete dovete darmi da mangiare perché altrimenti io divento cattivo è proprio così ho bisogno di diventare un ragno cavolo è l'e-e-revoluzione ok perfetto due bandiere forza 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 dobbiamo arrivare almeno al 74-75 amma dove pensi di andare mi dispiace non si può passare no ehi come osi ma fatti prendere maledetto vieni qui vieni qui scarafazzino ti devo mangiare perché vuoi conquistarmi la mia bandiera oh poscerini venite qua non mi avete visto eh gnam e gnam e gnam e gnam la trappola ha funzionato no no vieni qui ah non puoi andare in tana libera tutti mi hanno conquistato tutte le basi maledetti adesso vengo a riprenderle perché devo diventare gigantesco ehi piccolino ah mi è iscritto salve salve eh lo so va bene allora te lo lascio ragazzi gli lasciamo il posto al nostro fan da bella faccia è tutto e ci vediamo a un prossimo fantastico video ciao ciao